La prestazione c'è stata, i ragazzi ci hanno messo un impegno enorme, credimi che sono entrato, ho finito la partita, c'erano 4-5 con i crampi, sono contento perché ci stiamo calando nella categoria, i ragazzi stanno capendo la categoria, speriamo di continuare così. Un peccato però non essere riusciti, magari soffrire un po' meglio di quei minuti passati in 11 contro 10. Sì, avevo chiesto ai ragazzi di far girare palla perché sai se c'è uno contro una squadra che è in inferiorità numerica devi far girare palla, insomma le palle messe là davanti alte non servono a niente. I ragazzi ci hanno provato, abbiamo avuto un paio di occasioni per far gol, ecco non ci siamo riusciti dopo, loro onestamente si difendevano anche bene, sai dopo non mi sembra neanche che ci sia una gran luce per riuscire a esprimere un certo tipo di calcio. Poi siamo rimasti in 10 noi, l'espulsione di Sani, forse abbiamo giocato meglio 10 contro 10 rispetto a quando eravamo in 11, però ti dico sono contento per lo spirito che ci hanno messo questi ragazzi, credimi che sono stati bravi.